Selkirk era un marinaio scozzese di un piccolo paese della Scozia, nella costa tra Edimburgo e St. Andrews. Era partito da lì, uno dei cento, mille marinai che partivano in cerca d'avventura, poi diventò anche un corsaro, era stato anche nella marina britannica e a un certo punto Selkirk venne abbandonato da un capitano in un'isola deserta, a migliaia di chilometri dal Cile, nel Pacifico, nelle isole Juan Fernandez, oggi quest'isola si chiama Selkirk. Rimase lì per quattro anni, arrangiandosi, cercando di sopravvivere, ricoprendosi di pelli di capra e poi dopo quattro anni arrivò questo capitano Rogers a salvarlo e lo stesso Rogers, raccontando di questa sua sfedizione, inserì nel libro la storia di Selkirk. La storia ebbe una notorietà, poi venne ripresa da altri, venne pubblicata qualcosa in… però oggi Selkirk sarebbe dimenticato se un altro grande avventuriero non si fosse occupato di lui, avventuriero letterario chiaramente, cioè Daniel Defoe. Daniel Defoe prese la sua storia, l'arricchi, oggi diremmo che era una specie di realtà aumentata, cioè l'arricchi di elementi che nella realtà non c'erano e la fece diventare Robinson Crusoe, un libro molto discusso perché le cui qualità letterarie non sono riconosciute da tutti. Per un po' questo libro è stato considerato letteratura da ragazzi, però in realtà è un libro molto importante perché introduce alcuni elementi, è stato un libro molto studiato nei secoli successivi perché ha introdotto alcuni elementi importanti. Uno è il mito dell'uomo moderno, cioè Robinson Crusoe è stato analizzato e studiato da Rousseau, da Kant, da Camus, è stato studiato ampiamente, persino Joyce se ne è occupato, perché rappresenta l'uomo moderno, diciamo una forma quasi precapitalista di intendere la vita, cioè l'uomo che riesce a lanciarsi verso il successo, verso la vittoria. Dall'altro lato Robinson Crusoe introduce invece il mito del buon selvaggio e questo è ancora più importante, cioè introduce esplicitamente il concetto della superiorità dell'uomo bianco. Ovviamente il suo venerdì e il suo alter ego sono una coppia, come ce ne sono tantissime nel mondo della letteratura, come Don Quixote, Sancio Panza e tanti altri. Però da lì nasce questo mito che in qualche modo giustifica lo schiavismo, in qualche modo appunto ha avuto delle conseguenze enormi, in qualche modo le ha ancora nella nostra cultura, nella nostra società. Com'è finita? È finita che fu un grande successo strepitoso il libro e Selkir cercò anche di farsi pagare, ma da Defoe, Defoe non riuscì a non pagarlo mai, a non scucire nemmeno una sterlina.